Ricercate una vettura comoda, spaziosa e molto risparmiosa? Ebbene, Citroen C3 EHDI AirDream Exclusive al caso vostro. Con più di 25 km litro questa nuova versione con Stop & Start può percorrere con un pieno di carburante ben 1200 km. Quindi è molto attuale anche in considerazione dell'elevato costo al carburante. La funzione Stop & Start si attiva automaticamente quando ci si arresta, posizionando folle e togliendo il piede dalla frizione. Per ripartire è sufficiente schiacciare la frizione ed inserire la marcia ed automaticamente il motore si riavvierà. Grazie allo Stop & Start in città si consuma molto meno e si limita notevolmente l'inquinamento. L'impostazione di guida è tipica Citroen, molto confortevole e con grande visibilità, anche grazie al parabrezza Zenit che offre una visibilità unica nel segmento B. Per godere di questa immensa visibilità bisogna però fare qualche rinuncia. Le lette parasole non si possono spostare sul lato e si avverte la mancanza della maniglia di cortesia. Ottime le sospensioni che assorbono ogni asperità, caratteristica tipica e da sempre più all'occhielo del marchio transalpico. Sterzo molto preciso, con un buon raggio grazie al quale la guida in città è molto facilitata. Nonostante sia una vettura compatta, lo spazio interno è veramente incredibile. Anche in 5 passeggeri si viaggia in tutta comodità. Grazie al motore turbodiesel di 1600 cm3 e di una coppia di 230 Nm, in autostrada la risposta è pronta e con un'ottima accelerazione, garantendo un buon margine per sorpassi in tutta sicurezza. Con un equipaggiamento completo che comprende climatizzatore automatico, cerchi in riga da 16 pollici, sensori di parcheggio posteriore e vetri oscurati, parabrezza zenith, regolatore di velocità, volante in pelle, radio CDM P3 con domande al volante, al costo inferiore ai 17.000 euro, questa vettura ha i pregi giusti per conquistare l'attenzione di un folto pubblico. Per concludere una bella vettura con costi da primare.